Sara Nathan, la scrittrice e viaggiatrice che ci sta regalando con i suoi viaggi e pensieri tanti e tanti ebook dei racconti dei suoi viaggi in mezzo mondo, ebook tutti multimediali, ci ha appena regalato uno speciale dedicato ad Israele in due ebook multimediali. Guardate amici miei, questa è un'esperienza unica perché Sara Nathan ci mostra un Israele visto dal di dentro, al di là di qualsiasi stereotipo e ci mostra la verità, la verità su di un paese che merita di essere visitato, conosciuto, approfondito e non calugnato come troppo spesso accade. Dunque vi invito a leggere questi due ebook dedicati ad Israele che sono come al solito multimediali, quindi contengono anche audio e video, oltre a centinaia e centinaia di foto a colore e oltre naturalmente al testo scritto da Sara Nathan che è un'abilissima narratrice e questi ebook multimediali li potete trovare su iTunes e li potete leggere sugli iPad ed ora anche sugli iPhone di ultima generazione ed anche naturalmente su tutti i computer della Apple di ultima generazione, sia fissi che portatili. Quindi buon viaggio in Israele e buona lettura. Grazie.